Ciao ragazzi, nuovo video, si tratta di un video creazioni a tema su Tash, tutte realizzate, sono tutti orecchini, che ho realizzato con i cabochon handmaid di Arianna Jewels, che sicuramente conoscete anche voi, ma vi lascio ovviamente nel box info, non solo il link al suo canale YouTube, ma soprattutto metterò i link ai video dove fa vedere i suoi cabochon. È nell'ultimo periodo che è abbastanza esplosa questa mania per i cabochon handmaid, ma io in realtà ho sempre avuto un debole per questo tipo di creazioni, anche perché io da me non le so fare, e quindi mi è sempre piaciuto acquistarli, perché secondo me danno un tocco veramente originale a tutte le nostre creazioni, perché sono tutti pezzi unici, quindi è una cosa che a me piace tantissimo nel handmaid. Per cui vi faccio vedere appunto una serie di orecchini realizzati con i suoi cabo, anche se appunto ci sono tantissime altre ragazze che realizzano questi tipi di cabochon e che io ho acquistato tra l'altro, quindi insomma vi consiglio un po' di girovagare su internet e cercare quelle che vi piacciono di più. Allora, premetto che questi orecchini, queste paia di orecchini in realtà risalgono a tantissimo tempo fa, quindi alcune addirittura prima di Natale, parliamo di quattro mesi fa, però le ho ultimate solo recentemente e quindi ho aspettato insomma a fare il video per fare un video a tema per l'appunto. Allora, questi qui in particolare sono realizzati sui toni del bianco e della senape, proprio per richiamare i colori dei cabochon, che sono dei cabochon a goccia. Le ho decorati con tre piattine, le piattine sono tutte di Beats Perles in questo caso. ho fatto una decorazione un minimo asimmetrica, perché in questo caso ho portato una piattina in più da questa parte e qui solamente due. Poi ho messo questa catena strass che mi piace tantissimo, che è una di quelle catene strass che ho comprato al mercato, che hanno gli strass di colori diversi, però su una stessa tonalità, quindi in questo caso sono proprio tutte un po' dal bianco al dorato. e poi ho aggiunto un'altra piattina bianca per chiudere all'interno la catena strass. Qui ho messo in più un, ho realizzato diciamo un perno, o anzi un elemento decorativo perché non è un perno, con una goccina in mezzo cristallo bianca e sempre le tre piattine a chiudere. E poi ho messo delle monachelle molto semplici, color bronzo, e questo è il retro bianco fatto con il feltro. Poi un altro paio è questo qua, sempre dai toni invernali perché appunto l'ho fatto ormai mesi fa, è tutto sul bianco, ho utilizzato in questo caso invece le piattine, allora quella bianca è la cotton di film incanto, quindi è più spessa, e poi una piattina di Beats Perles invece di quelle metalli, comunque con tutti i fili argento. Poi ho fatto una decorazione diciamo semplice, sempre tutta di Ghirigori, con dei cipollotti argento 3x4 mm e poi ho messo una perla da 6 mm, queste qui sono quelle, non mi viene il nome, comunque quelle porose diciamo argento. Qui sotto ho aggiunto un'ulteriore piattina, ho messo questi tre elementi e dei cipollotti a chiudere, quindi anche questo è un lavoro molto semplice. In realtà avevo messo delle monachelle floreali, quindi era proprio un terno fatto a fiore, color argento, che richiamasse comunque l'interno di questi cabochon qui, però mi si è annerita completamente, mi si è ossidata, infatti mi è spiaciuto molto, per cui ho sostituito con una monachella semplice. E questo è il retro, anche questo semplicissimo con feltro bianco. Poi, sempre colori abbastanza invernali, ahimè, questi qua, che ho voluto fare proprio per utilizzare queste gocce, che sono le gocce che ho preso da perline Fimo e Bijou, ve le avevo fatte vedere in un video recensione. In questo caso ho utilizzato questi piccoli cabochon tondi, sui toni appunto del bordeaux e dei brillantini dorati, quindi ho utilizzato questi due colori, scusate. In particolare ho utilizzato queste piattine qui, bordeaux e diciamo all'interno un pochino di beige, non so se si vede, che sono le piattine ombre, quindi volevo proprio utilizzarle, era uno degli ultimi colori che avevo comprato da Beats Perless. Poi, quindi, ho iniziato a fare il lavoro in questo modo, quindi facendo un ghirigoro semplice, mettendo dei mezzi cristalli da 4 mm dorati e poi questa perla qua, che invece è una perla in resina della preziosa. Poi ho fatto il ghirigoro con sempre i mezzi cristalli e altre due piattine, mentre il sopra l'ho voluto fare tutto con le super duo, quindi avevo queste super duo bordeaux che secondo me andavano bene come tonalità e quindi le ho volute utilizzare. Sotto poi ovviamente ho messo le gocce bordeaux e ho utilizzato queste monachelle che mi piacciono tantissimo, guardate che carine. Sono comunque semplici, portabili da tutte, però hanno questo disegnino, diciamo, questa decorazione che mi piace. Il retro l'ho fatto in bordeaux con dell'alcantara. Devo dire che mi sta piacendo tanto l'utilizzo delle super duo insieme alle creazioni su Tash, infatti anche nell'ultima creazione che vi farò vedere le ho utilizzate e cercherò di utilizzarle sempre di più. Poi un lavoro molto molto semplice, questo qui è uno degli ultimi che ho fatto, è questo qua, molto più estivo, finalmente ci spostiamo un po' su qualcosa di estivo, perché appunto volevo utilizzare questi cabochon qui che sono spettacolari secondo me come colore e anche come disegno. Vedete che c'è questa sorta di fiore col polline all'interno tutto dorato, vedete anche come sono lucidi. Che piattina ho utilizzato? Ho utilizzato questa piattina qua meravigliosa che è una delle mie preferite in assoluto di Filincanto, che è di questo appunto azzurro petrolio con tutti degli inserti color rame brillantinati. Poi invece quest'altra piattina è un senape chiaro di Beats Perless, delle perle da 4 mm sempre sul dorato che avevo preso da Perlinee Film Bijou e poi queste nappine che erano il pendente che ci stava meglio, nel senso che volevo rimanere molto semplice e sottometterci appunto un pendente, però non avevo nessuna goccia dello stesso tonalità di blu e quindi alla fine ho scelto queste nappine qua che sono insomma sempre divertenti secondo me. E poi qui sopra ho messo la monachella bronzo. Dietro l'ho rifinito in questo modo con la pelle dorata, anzi bronzata. Finiamo con i miei preferiti che sono questi qua, questi veramente mi piacciono un casino, infatti li voglio rifare anche con altri cabochon. Allora, innanzitutto ho utilizzato tra piattine diverse, sono tutte di Beats Perless, una dorata metallizzata, una metallicum appunto mattone e dorata e una mattone, che tra l'altro mi avevano dato come omaggio, infatti l'ho finita e mi dispiace molto perché invece era un bellissimo colore che io non avrei comprato ma che in realtà ad esempio per questi cabochon e con le perle della pietra del sole ci stava perfettamente. Quindi l'ho incastonato il cabochon, poi ho messo, ho fatto il ghirigoro con una perla d'agata da 8 mm e queste due perle di pietra del sole da 6 mm. Dopodiché ho fatto questo primo ghirigoro con le mini duo, guardate che carino, è delle rocaille 11.0 e poi ho realizzato questa sorta di fogliolina sempre con le mini duo e le rocaille. Per montarlo poi ho fatto quest'altro elemento decorativo che è sempre una pietra del sole rivestita con quattro piattine e poi ho messo una monachella. Sotto ho messo il pendente, quindi ho messo questa goccia in mezzo cristallo e devo dire che a me piacciono veramente un sacco come modello e lo voglio sicuramente riproporre. Questo qui è il retro che ho fatto color senape. Niente, queste erano le mie creazioni, un video veloce perché non ho tanto tempo, ma ci tenevo veramente a girare questo video per ringraziare Arianna e anche per chiedervi se avete dei consigli su come lavorate voi cabochon and made. Se vi piacciono, che tipo di realizzazioni fate, se preferite su tash piuttosto che tessitura di perline, qual è il modello che vi è piaciuto di più di questi, se vi piace l'utilizzo delle superduo all'interno di creazioni su tash, eccetera. Insomma, fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Ringrazio ancora Arianna e la saluto. Ci tenevo tantissimo a farti vedere insomma che i tuoi cabochon erano stati utilizzati e non erano più nel cassettino. Al prossimo video. Ciao ciao!